Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui ho creato un nuovo video quale è possibile una scuola Adesso vi darò i raffalmenti con l'Atalantico visto che l'abbiamo ancora fatta Proverso 20 milioni, forse un po' troppo non lo so Proverso 20 milioni perché Ho visto che ho già acquistato dei virali Sì, però aspettate Aspettate, ho già qui metto 10 milioni dai Visto che non abbiamo fatto niente In Forse, Busso, Cardesecchi, Sportiello, Rossi e Gollini Allora, Gollini lo vendo a 10 milioni Cardesecchi lo vendo a 15 milioni e vado a 25 milioni Busso lo vendo a 20 milioni e vado a 45 Poi Sportiello lo tengo come secondo E come penso tengo Rossi Più 45 milioni e vado a 55 E che prendo Come primo Non importa Giovane Aspettate, devo pensarsi Che se voglio prendere uno Non troppo giovane, troppo vecchio Io voglio uno Io vado a cercare questo Giovane Con i saliti io voglio anche fare 15 milioni e la mettiamo Potremmo tenere le cardesecchi Allora Preotto cardesecchi Quindi, chi compiamo? Micario E abbiamo ancora 35 milioni 15 milioni e vado a 45 40 milioni 40 milioni però Il portiere Primo Micario Secondo Sportiello Terzo Rossi Dei milani ho già acquistato Rinciti Scalvini Toloi Palomino Ocoli Ocoli in prestito Che si vuole 5 Ah 5 milioni Ocoli Ah Palomino Lo vengono per Palomino Lo vengono per 8 milioni 8 milioni Toloi per No Palomino 20 milioni Toloi e il palomino 20 milioni Scalvino Tengo come terzo E come quarto Tengo Ocoli 20 milioni Del milano Lo tengo come primo Ed in città Lo vedo per 20 milioni Quindi 40 milioni Vado a 85 milioni Per un difetorio Allora Io voglio uno Prima io non voglio fare La scuola di giovani Che quest'anno Bisogna Nella sua parte Puntiamo Alla In Champions Quindi In giovane Del milano Del giovane Come più Scalvino Coli perciò Scalare Io prenderei Una per 45 milioni Io ho chiesto Vedendo un po' di sempre Guardi sempre Devo pensare Perché O prendi in prestito Di una cosa che Tant'ero Perdo breve Voluzzi Procure Di decadatti Io lo posso Perdere in prestito Troppo C'erano In comprensione Arrivato Ragazzi Adoluiso Felipo Luis Felipo Luis Felipo Non so Io non sono Imparato Perché Mica Mica faccio Così Tutte Per Farlo 20 milioni Che 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 Tant'ero Tant'ero Coluzzi Quindi Una Perché Quanti Di 25 anni Quindi Può Dover Di 5 anni Poi Scalvio Con Mesimilio Ho C'esatto 5 milioni Qua Eh Perché L'attacco Voglio Togli Qualcosa Ok Vai 100 No Aspetta Terzi Io Fai Un 4 Senti Ruggeri A sinistra Ruggeri Siamo Ruggeri A sinistra Faccio Di A Ma io Non l'ho Già Fatta Questa Con L'Atalanta Che Io Mi Ricordo Già Pasta Aspettate L'altro Che Un po' Dio No Eh Io Mi Ricordo Di Già Pasta Aspettate Qui Ogni Votta Che Cerco Adesso Quello Canale Non lo Trovo Mai Ecco Lo Che L'ho Già Fatto Sassuolo Bolgia Milan Juve No Ok Non l'abbiamo Fatta Forse Ho Che Trovo Che Parte Cosa Vedo Per 10 Milioni Atable Lo Vendo Per 15 Quindi Vado 25 Bene Lo Vendo Per 15 Vado 20 20 30 30 Ruggero Vanno in vestito Mattiello Debo Come qui Come terzo No Aspetta Terceo sinistro Terci di destri Come Secondo Mattiello Sottaceo di destri 10 25 40 Adesso Dico Dico Secondo 40 Milioni Vado a 105 5 Io Tercezio sinistro Io Tercezio sinistro Io Ti prendo Dei top Lo Dico Lo Dico Subito Ti prendo Dei top Io Per A destra Ho Giocato Di Trovo Potrebbe Far Bene Neanche Tanto Echia Costa 15 Milioni Quindi Vado A 95 95 90 Milioni Lanzeri A destra Pensate Ovviamente Prima Sinistra Io Vado in Giocatore Appena Metto Un 0 Prima Metto Un 0 Che sale E io Ci punto Appena Metto Un 0 Merdodesca Tutti Nessi Direti Però Io Vado 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 Poi Io Secondo me Merdodesca E' Un giocatore Più Concezionale Frentina Quando Nessuno Critica E' M'ho Quello Va Più E' Forte E' Un Tra La Juve Questa 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 Gioca Giocatecci Crociare Come Lanzeri Non Sare Non Stai Indietro Mediano Mediano C'è Come Dere C'è Dere Carraro Carraro Un Secondo Io Tengo Carraro Come Secondo Come Dere Qualcuno Vuole Come Dere Ci In Corri Mi Siamo Cercati Non Possa Togli A 24 Anni Poi 20 Milioni Vela In Casso Frivano Centro Centro Deci Milioni Con De Centrali Fler Da Riva Muratore E Basta C'è Un Decentralia Io Compro E 15 Milioni Che Li Vado Centro Dovantacic Vado Dovantacic E Il Primo E Lui 200 Capiscono Come Terzo E Quarto Come Terzo Tengo D'arriva Anzi Come Quarto Tengo D'arriva Vado Vado Festo Buratore Che Fu Rotto Fraule Fraule Lo Vedo Per 20 Milioni Vado 95 105 115 16 C'è un 4 16 Un Teatro 16 Giovane Non Troppo I Voi Tricatite Dai At Trapano L'Atalanta Fagioli ho scritto fagioli fa già ci dico lucy caviglia aspetta noti se il corso ragioni fatto per fare io che io forse pure un 23 vediamo figlio vediamo vediamo perché c'è centrale di connessi sempre così e non c'è io provate a rotto poi quella faccio video parte maturo che non vuole più aiua 20 milioni può fare bene 10 più 20 fa 30 vado a 85 prendo come terzo fagioli e come c'è il conto per dell'abbiota e lecce che vedete se ho messo a scuola se fa bene su fifa perché forse era lui era lui di quello si cariglia poi 4 3 sa qui c'era credi date quattro stas e quindi punti devo assisti c'è un aspetto che c'è giortato è preso un detto che questo che pisa poi qua c'è ma i nostri padre il bilan ciucco valenco ma i nostri governo padre cerno poi lo scrivo vengo milan ciucco lo vengo e vado a 30 40 milioni 95 105 115 125 e tengo polizia ci primo patris secondo covalenco posso dire ancora voglio fare l'appunto quale lo vanno in testo cambiati lo vengono in prestito capolino vado in prestito il cabecas lo vanno in prestito e giro vado in prestito il cicce e scadenza non aspetta il ciclo di mangiare voglio dico che vengo metto venti milioni e ora cento e quattro a città in attacco cento e quattro a città già parte a voi e l'amore servito e tubinelli già parte lo vado per 30 milioni buio e lo vado per 20 milioni vado a 30 50 l'amore sono cinque video e tubinelli e io l'amore sotto in come cico aspetta come terzo e con il quarto tengo video tubinelli lo vengo a un milione vado a 50 milioni qui vado a 146 196 milioni vado a 2 punte 2 punte scusate ragazzi ha fatto la scuola forte vence vale 50 milioni 1596 vado a 136 156 16 16 16 16 16 146 16 16 16 16 16 16 16 17 in gemma mia, 50 milioni tutte e due, la T-Ban, 70 milioni, abbrano quante costano, per tanto lo compro, abbrano, forte ragazzi, 50 milioni, 50 milioni, 140, più 70, vado a 30, 20, 10, 100, dov'anno, 80, 70, vado a 70 milioni, io ho fatto l'attacco della Madonna, il portiere se mi cade per prendermi ancora di più forte, e quanto costa? No, non da roba, va l'altro, bagnando, dai 70 milioni, perché sono solo più portiere, 40 milioni, qui ho fatto in 3 milioni, vado a bagnare, forse è pure un, un quarto, più forte, scrivo a quarto come terzo, vado a non seguisse, prendo gatti come terzo, scalvini qui dico a quarto, terzo, terzo coli, scrivo a scalvini, salgo scalvinicola, e tiglio a bugatti, per 10 milioni, io vado a 20, ragazzi, io come 20 milioni, finisco, e ci vediamo subito, là, su quale, portiere, bagnano, secondo me, cosa puoi dire, 60, quindi, 10 settori, De Bilal, e Luiz Felipe, poi, tercino, Berdandeschi, e Lazari, e Salono, poi qui mi attacca, c'è, bene, c'è uno che rimane, a possibilità di skillati di questi albero, e quando loro non salvo, meglio, poi, Ederson è la blotta sotto campo, Ederson è la blotta sotto campo, e l'ambiente di cerito che sta giù, COC vi lascio a Padres, che sta su, e fa pure il quadro di aria, a chi dice, OGBED e AGRAM, provo tutti questi sogni, quindi, non è realistica, non è realistica, non è realistica, però quella che vediamo, no, è realistico che vediamo tutti quelli, no, è realistico che vediamo tutti quelli, no, c'è un pari, è che sono troppi, i segretori da vendi, che cavoli, conca tutti, il suo piccolato, eh, il ciccio, che c'è un pari, dai ragazzi, se riesco a cercare un altro video, poi che lo dirò, qui ci vedo il prossimo video, ciao,